Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta, ognuno vale Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Non si è licenziato per impossibilità a seguire i propri familiari, i propri figli. Un pulmino che parte da Torino alle 5.30 del mattino con un turno di 12 ore, il personale rientra alle 22.30, quindi sono 17 ore fuori casa per 4 giorni a settimana. e francamente bisogna anche io penso dare e garantire un lavoro dignitoso, tra l'altro personale che lavora con persone con disagio psichico e ovvio che se inizia ad avere anche loro un disagio sociale non è facile gestire il personale quindi noi chiediamo ovviamente che vengano rispettati gli impegni presi dalla parte politica quindi l'assessorato e il responsabile della multinazionale francese Orpea che gestisce le strutture che vengono quindi riassunti tutti alla nuova struttura che c'è a Torino, Richelmi, dell'ex istituto Richelmi che dovrebbe essere una struttura comunque per anziani, c'è un momento che non è ancora e quindi chiediamo appunto che vengono rispettati questi impegni Grazie, mentre invece Davide Crippa, deputato, come ha trovato questa struttura? È una struttura completamente nuova, è una struttura che però presenta già i suoi vizi di costruzione sono già tutte le maniglie da cambiare per cui qualche cosa deve essere ancora risistemato Ho notato con stupore che in realtà essendo un trasferimento di un'attività che si svolgeva nella provincia torinese oggi la maggior parte degli assistiti provengono dall'interland milanese e quindi forse come sanità regionale qualche domanda ce la si deve porre se non sia stata un'operazione di marketing aziendale per poter vendere i propri servizi in un'altra regione con l'avvallo però della sanità piemontese e della politica che oggi ci ha governato finora Tra l'altro sembra appunto che per i pazienti ricevere visite sia un po' problematico avete chiesto qualcosa ai responsabili? Abbiamo chiesto conto della possibilità di ricevere visite su questo però non ci hanno dato delle opinioni negative ci hanno anche detto che l'accessibilità degli ospitati verso l'esterno è comunque garantita qualora venga fatta richiesta sempre e generalmente sempre quando accompagnati dai parenti il problema ovviamente è il problema trasportistico nel senso che immaginate delle persone che vengono da Torino dei parenti è francamente impossibile uno magari con la macchina spende 100 euro devi scendere alla stazione di Arona o di Min poi non ci sono i mezzi per tornare su quindi questo è scendere giù quindi questo è il grosso problema della localizzazione a parte il posto molto bello è francamente abbastanza inaccessibile se non sia al mezzo privato quindi torniamo sempre al solito discorso in ultimo chiudo dicendo che diciamo che con la responsabile struttura non siamo riusciti ad approfondire il discorso dei contratti ci è stato chiesto di fare una richiesta ufficiale al signor Giuseppe Arrella e quindi faremo richiesta per capire soprattutto la questione dei contratti sono passati dal contratto nazionale di sanità privata a un contratto con cooperativa ci hanno detto che lo stipendio è lo stesso i contributi sono gli stessi allora mi chiedo quale sarebbe il vantaggio di farli passare a cooperativa quindi su questo indagheremo perché ovviamente non vogliamo che poi questi trattamenti di marketing politico sanitario come ha detto giustamente Crippa servano poi per far guadagnare a qualcuno abbassando magari la parte contributiva dello stipendio e quindi mettere le mani del privato nella sanità che è uno degli slogan preferiti insomma in Lombardia che non vorremmo che passasse anche in Piemonte Quindi voi come Movimento 5 Stelle farete operazione fiatto sul collo in questo caso su questa struttura? Chiederemo conto di tutti questi aspetti di natura contrattualistica e anche dal punto di vista numerico della frequenza del personale operativo durante i turni perché ci sono stati raccontati una serie di numeri che destano un po' di preoccupazione quando scopriamo che dei due fisioterapisti ad esempio entrambi siano part time e quindi quello che ci era stato raccontato all'inizio insomma viene un po' a mancare di concretezza considerando che magari il giorno in cui uno dei due va in ferie in part time deve coprire tutto l'intero ciclo e ci si pone la domanda di come faccia fare Grazie 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 Grazie